Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuova video recensione a teme Harry Potter e spulceremo assieme un libro che è appena arrivato nelle librerie ma che è passato un po' in sordina ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il codice sconto 7Potter potrete acquistare delle bellissime magliette a teme Harry Potter ma anche di altri franchise e anche calzini, mascherine, felpe e chi più ne ha più ne metta, tutte col 20% di sconto utilizzando appunto 7Potter e vi ricordo che il codice sconto è accumulabile con tutte le altre offerte che propone Pampling, quindi ad esempio in questo momento ci sono magliette a 5€ e promozioni di 2 magliette a 10€ e tantissime altre cose molto molto interessanti, quindi ragazzi link in info box ma detto questo direi di cominciare di cosa si parla ragazzi oggi, oggi parleremo del terzo e ultimo volume illustrato della biblioteca di Hogwarts il primo, è ormai uscito credo un paio di anni fa, fu questo qui Gli animali fantastici e dove trovarli di Newt Scamander trovate naturalmente sul canale la recensione anche di questo volume trovate tutto nella raccolta Harry Potter del canale che vi lascio nelle schede e il secondo invece fu le fiabe di Bedelbard che uscì circa un anno, un anno e mezzo fa eccolo qui, che devo dire che tra i tre forse è quello che mi è piaciuto un po' meno e qualche giorno fa è arrivato nelle librerie e anche su Amazon naturalmente vi lascerò i link in info box per tutti questi volumi è arrivato il Quidditch attraverso i secoli e devo dirvi che non è stato granché pubblicizzato io l'avevo visto che stava per arrivare in lingua inglese ma mi sono accorto che era disponibile in italiano quando già era disponibile sul sito su Amazon e quindi praticamente non ho dovuto aspettare neanche un giorno per l'uscita perché me lo sono già ritrovato lì disponibile il prezzo di copertina è di 29,50€ su Amazon c'è un piccolo sconto e ragazzi io l'ho già sfogliato quando è arrivato e vi dirò, questo libro mi ha proprio sorpreso devo dire che forse è il più riuscito dei tre e il merito va sicuramente all'illustratrice che è Emily Grevett e ragazzi a questo punto io non ho molto altro da aggiungere se non dirvi che adesso è il momento di cambiare inquadratura e di andarlo a sfogliare assieme ed eccoci qui col nostro bel volume e cominciamo subito ad analizzare la copertina e la prima cosa che salta all'occhio è naturalmente il nome dell'autrice J.K. Rowling scritto lì in alto tra due manici di scopa sotto abbiamo il nome dell'autore fittizio del Quidditch attraverso i secoli e poi abbiamo le tre palle la pluffa, il bolide e il boccino d'oro le palle del Quidditch abbiamo un manico di scopa qui con questa sorta di, cos'è, un corvo con una bacchetta nel becco abbiamo dei giocatori di Quidditch e poi abbiamo questo tondello qui che è stampato sulla copertina e che devo dire che a me non piace perché potevano magari metterlo come adesivo ma dal mondo magico di Harry Potter così stampato qui sulla copertina fa un po' perdere la magia non mi piace proprio particolarmente ma cominciamo a sfogliarlo ed ecco qui l'interno che è molto molto bello con tutti questi giocatori di Quidditch e poi abbiamo proprietà della biblioteca di Hogwarts e il foglietto che è solo stampato quello con i prestiti però molto molto carino andiamo avanti ed ecco che troviamo il Quidditch attraverso i secoli ne hanno parlato e troviamo diverse foto diversi quadri e salta subito all'occhio qui Rita Skeeter che è molto simile all'attrice che l'ha interpretata nel film e poi abbiamo anche Gilderoy Lockhart o Hallock se preferite e poi abbiamo anche Batilda Butt qui sulla scopa che qui naturalmente adesso si chiama Backshot con il nome originale e poi Brutus Scrimgeour e poi chi altro abbiamo? qui abbiamo Ludovic Bagman e ragazzi adesso ecco che comincia ufficialmente il libro qui abbiamo questa bella veduta di Hogwarts con uno studente a cavallo di una scopa e poi abbiamo l'indice l'indice che parla dell'evoluzione delle scope antichi giochi il gioco della palude di Quidditch l'avvento del boccino d'oro misure antibabbani imputamenti nel Quidditch le squadre la diffusione nel mondo l'evoluzione della scopa e il Quidditch al giorno d'oggi capitolo 1 l'evoluzione della scopa volante ed ecco che all'interno troviamo queste riproduzioni di antichi manoscritti questo è il tacquino di una strega e poi abbiamo una teca con un vecchio manico da scopa ed ecco qui che abbiamo anche queste finte rappresentazioni un po' medievali molto molto carine e poi si passa al capitolo 2 antichi giochi con le scope e abbiamo delle mappe abbiamo dei vecchi manifesti mi piace moltissimo questa scelta dell'autrice dell'illustratrice che ha realizzato questi finti reperti del Quidditch anche questo molto molto bello sembra davvero un vecchio dipinto un dipinto antico molto molto interessante abbiamo anche la descrizione si tratta di un dipinto a tempera sul legno del 1105 Gunther il grasso è il vincitore e mi piace davvero molto che lei abbia creato tutte queste opere da inserire all'interno del volume molto molto interessante qui abbiamo un'altra pagina di un finto manuale di volo e poi si passa al capitolo 2 il gioco della palute di Quidditch e anche qui ecco che abbiamo un diario sassone con l'illustrazione della maledizione rovescia ginocchia è davvero molto molto carina questa cosa abbiamo anche delle streghe questa antica moneta anzi è un sigillo in bronzo del dodicesimo secolo e poi qui abbiamo ancora una lettera originale inviata da Godwin Knin a suo cugino Olaf conservata agli archivi del ministero della magia norvegese molto molto carina questa cosa e poi passiamo al capitolo 4 l'avvento del boccino d'oro qui abbiamo delle pagine che si aprono ed ecco qui che abbiamo questo bellissimo arazzo credo sia proprio un arazzo guardate quanto è bello che raffigura la battuta di caccia medievale al Golden Snidget conservato al museo del Quidditch di Londra davvero molto molto carina e poi ecco che qui abbiamo il boccino d'oro originale che per chi non avesse letto il libro era un uccello ma adesso passiamo al capitolo 5 misure anti babbani e troviamo davvero molto molto bello questo dipinto si tratta del ritratto di Zacharias Mumps olio sul legno e ragazzi è palesemente un Piero della Francesca ed è molto molto bello che quest'artista abbia reinterpretato alcune opere famose davvero molto molto carina questa cosa e qui mi sembra che tra poco abbiamo un'altra pagina che si apre in due capitolo 6 i mutamenti del Quidditch dal XIV secolo e continuiamo ad avere molte illustrazioni qui abbiamo i canestri del Quidditch le prime porte da Quidditch dove segnare i punti abbiamo questo che invece è uno schema del campo che è molto molto carino perché sembra proprio un volume antico qui altro antico manoscritto miniato raffigurante il qui giudice che porta al centrocampo le quattro palle prima della partita guardate che cosa molto molto divertente mi piace davvero tantissimo abbiamo dei finti articoli di giornale e poi qui abbiamo le palle da Quidditch il campo e qui abbiamo la raffigurazione delle palle da Quidditch in scala 1 a 1 questa è un bolide questa è la pluffa che è davvero molto molto grande e poi abbiamo il boccino d'oro con la scala qui in centimetri davvero molto molto carino e poi andiamo avanti qui ecco che abbiamo queste che sono illustrazioni di vecchi bolidi dei bolidi antichi e qui l'evoluzione del bolide nel tempo e poi abbiamo anche il boccino d'oro e andando avanti i vari ruoli del quidditch con il battitore i cacciatori il cercatore quindi vengono spiegati i vari ruoli e poi qui abbiamo le regole con queste belle illustrazioni davvero molto molto carino e spiegato tutto molto bene documenti del dipartimento per i giochi di sport magici top secret mi piace tantissimo che abbia creato tutti questi finti documenti e poi abbiamo il capitolo 7 con le squadre di quidditch di gran bretagna e irlanda ed ecco che qui abbiamo una mappa con le diverse squadre ad esempio i felmoth falcon i kenmer kestrels ragazzi sono davvero difficili da reggere e plebi eros e tanti altri va bene così e poi ecco che qui abbiamo i vari loghi e il più famoso è quello dei cannoni di chadley che è stato nominato tantissime volte dal nostro ron anche nei film poi le varie divise di gran bretagna e irlanda sono davvero molto molto carine molto interessanti e poi ecco qui che abbiamo invece apple by arrows e qui abbiamo la sconfitta inferta dagli apple by arrows nel 32 a quelli che all'epoca erano i campioni europei i vrazza vultures in una partita che durò 16 giorni condizioni di fitta nebbia e pioggia e qui abbiamo tutte le varie condizioni meteo di ogni giornata una sorta di cronaca di quella partita molto molto carina e poi andiamo avanti abbiamo guardate che bella questa una vecchia illustrazione di una pubblicità della burro birra davvero super super simpatica poi abbiamo delle medaglie altre immagini questa è una vera maglietta e si tratta della spilla precedente a 1972 dei cannoni di chadley e la maglietta dei fan del 72 molto molto carino e questo avviene per ogni singola squadra davvero molto molto ben fatto abbiamo anche qui dei gadget qui abbiamo una bambola delle precauno mi piace mi piace davvero tantissimo davvero davvero molto e adesso passiamo al capitolo numero 8 la diffusione del quidditch nel mondo quindi parliamo dell'europa con alcune pergamene alcune pagine di vecchi testi medievali molto molto bello qui abbiamo un manifesto francese e poi questo che invece è una scena della finale della coppa del mondo di quidditch del 1473 di un anonimo artista fiammingo ragazzi questo è palesemente un quadro di bosch di hieronymus bosch che è uno dei miei pittori preferiti assieme a van gogh e questa è proprio una reinterpretazione di un quadro di bosch che io vi consiglio tantissimo di andarvi a guardare su google o anche su wikipedia perché è un pittore che a me piace tantissimo e quindi tanti punti per questa illustrazione da parte mia e poi ecco che qui abbiamo ancora altre informazioni ad esempio sull'africa sull'america del nord quindi tutta la diffusione del quidditch e qui abbiamo addirittura un piatto giapponese del tardo diciannovesimo secolo con delle raffigurazioni del quidditch questo lo trovo geniale anche perché il piatto ha la forma del campo di quidditch con le porte davvero bellissimo davvero molto molto bello qui abbiamo ad esempio una reinterpretazione di una stampa di una stampa giapponese davvero molto molto bella e poi l'evoluzione della scopa capitolo 9 qui abbiamo delle vecchie pubblicità delle scope qui abbiamo una prima scopa rudimentale e poi ancora altre immagini foto questa molto molto divertente con una fabbrica ragazzi devo dire che c'è stato molto molto impegno nella realizzazione di questo volume e si vede tutto capitolo 10 il quidditch al giorno d'oggi e qui abbiamo altre regole altre mosse del quidditch che ci vengono spiegate sono davvero molto belle queste illustrazioni e poi vediamo come si conclude abbiamo jk roding abbiamo la biografia della roding e dell'illustratice emily grevet davvero molto molto bello ricordiamo che i proventi di questo volume vanno a comic relief e rumos quindi vanno in beneficenza questo è sempre bene ricordarlo e rieccomi qui ragazzi con la mia copia del quidditch attraverso i secoli illustrata accanto a me e non posso che confermare i miei sospetti la mia prima idea secondo me è il più riuscito tra i tre volumi e vi dirò che io sono partito con davvero poche speranze perché ero convinto che questo invece sarebbe stato il peggiore perché non c'era tanto materiale non era così semplice da illustrare secondo me perché gli animali fantastici veniva servito su un piatto d'argento perché era semplice bastava illustrare tutti gli animali immaginare ogni singolo animale descritto dalla roding e eravamo già belli che pronti con un'edizione illustrata quindi diciamo che l'artista in quel caso è stato un po' avvantaggiato anche perché abbiamo visto diversi animali nei film è stato un po' avvantaggiato però è stato comunque molto bravo perché il suo stile è molto riconoscibile nel invece fiabe di Bedelbardo devo dire che secondo me poteva essere il migliore da illustrare perché si trattava di fiabe quindi ad esempio Mina Lima secondo me avrebbe tirato fuori qualcosa di pazzesco e invece il risultato è stato un po' un po' meh un po' così così e invece devo dire che il Quidditch attraverso i secoli mi ha proprio stupito è stata davvero bravissima l'illustratrice perché ha creato delle scamotaggi come quella di andare ad imitare lo stile di alcuni pittori iconici famosi e andare a creare delle opere originali a tema Quidditch portare dei documenti dei finti documenti relativi al Quidditch finte fotografie è stata davvero molto molto brava ha mixato tantissimi elementi per arricchire questo volume di contenuti e secondo me l'operazione è riuscita alla grandissima mi dispiace che il libro sia uscito così in sordina non è stato molto pubblicizzato non ha girato neanche granché su Instagram quindi sono contento di aver fatto questo video e di avervelo fatto conoscere perché secondo me ne vale assolutamente la pena per chi me lo chiedesse io vi faccio già vedere che il volume ha le stesse dimensioni esatte degli altri due quindi i tre volumi stanno benissimo assieme non ce n'è uno più alto o uno più grande sono tutte e tre uguali e quindi la nostra biblioteca di Hogwarts è ufficialmente finita e ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate se l'avete già acquistato se sapevate che era in uscita o che comunque era già disponibile per l'acquisto io sono davvero super super soddisfatto e non vedo l'ora di acquistare altri libri illustrati e poterli sfogliare assieme a voi detto questo ragazzi come al solito vi chiedo di lasciare un mi piace commentare iscrivervi al canale qualora non posto ancora iscritti di consigliare il canale ai vostri amici e naturalmente ragazzi noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità ciao ciao ciao